Musica Al via le iniziative in diocesi per il tempo del creato in cattedrale a Chiavari la veglia ecumenica per la custodia del creato domani a Casa Caritas convegno sui temi della transizione ecologica. Calano i contagi ma non gli effetti a lungo termine del covid sulla vita e la psiche dei giovani. Aumentano gli accessi al dipartimento salute mentale dell'ASL4. Cinema, teatri e musei di nuovo al 100% da lunedì 11 ottobre c'è il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri. Provvedimento positivo speriamo dia fiducia a molte persone a tornare nelle sale commenta un gestore. E' una storia di bene quella costruita in 75 anni di vita dal villaggio del ragazzo un ente sempre a disposizione dei più fragili. Domani alle 18 la messa con il Vescovo al centro di San Salvatore di Cogorno. Il Vescovo di Chiavari ha incontrato la comunità ucraina per un momento di conoscenza. Sapere che è con noi ci dà speranza hanno detto i fedeli di Rito Bizantino. Ritorna in presenza la scuola di teologia di Chiavari, un percorso per approfondire e motivare la propria fede, spiega il direttore dell'istituto. Progetto Matchpoint all'Accademia del Turismo di Lavagna. Aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti per Cuoco on the Job e addetto alle vendite nel settore alimentare. Formazione in aula e anche in azienda. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Dunque con la veglia di preghiera e di riflessione a Chiavari hanno preso il via questo pomeriggio le iniziative organizzate in diocesi dalle chiese cristiane del Tiguglio e dall'ufficio diocesano pastorale del lavoro per il tempo del creato. La cattedrale di Nostra Signora dell'Orto ha ospitato la celebrazione ecumenica per la custodia del creato. Sono presenti tra gli altri il nostro Vescovo Monsignor Giampio De Vasini, Martini Barra, pastore delle chiese evangeliche battiste di Chiavari e Rapallo, Filippo Sorin, parroco della chiesa ortodossa romena. La funzione è iniziata con l'ascolto di un brano di Aiden, sono seguiti momenti di canto e letture di alcuni brani delle sacre scritture. Al centro della navata in cattedrale una pianta di melograno simbolo della vita e della natura che va rispettata ed è messa in crisi dalle scelte ecologiche di questi anni. Domani mattina poi le iniziative proseguono alle 9.30 a Casa Caritas, sempre a Chiavari un convegno ecumenico con gli interventi di padre Traian Waldman della chiesa ortodossa romena di Milano. Carlo Alto Monte, docente di economia dell'integrazione europea all'Università Bocconi di Milano e Patrizia Giangualano, esperta di sostenibilità. Modera, l'economista Patrizia Bussoli nel convegno a partire proprio dalle 9.30 sarà trasmesso in diretta tv su Telepace 3 al canale 115 e poi sui canali social della nostra emittente. Voltiamo pagina adesso i risvolti della pandemia, soprattutto quelli sulla vita delle persone, non si fermano con il calo dei contagi. Se da una parte i vaccini stanno aiutando a contenere gli effetti diretti della malattia, dall'altro l'onda lunga del covid si farà sentire ancora per molto tempo sulla socialità delle persone. Tra le categorie più colpite sicuramente i giovanissimi e i ragazzi. Il punto è stato fatto in occasione della giornata mondiale della salute mentale che in Asle 4 ha visto in campo gli operatori del distretto. Vediamo. Anziani, donne, ma soprattutto i ragazzi. Se qualcuno può dire che in questo anno e mezzo di pandemia non è stato colpito dal virus, non c'è nessuno che possa affermare di non essere stato toccato dal covid nella sua vita. E sono proprio i giovanissimi ad aver subito e ancora a patire le conseguenze maggiori delle chiusure e dei lockdown, isolamento, difficoltà nelle relazioni interpersonali, depressione. La situazione a restrizioni, grazie anche alla diffusione dei vaccini, sta lentamente migliorando, ma gli effetti diretti sulle persone si faranno sentire anche nel lungo termine. Abbiamo già notato un incremento degli accessi, una grande domanda soprattutto da parte dei giovani che sono forse i più sofferenti per quello che è successo. Tanto che qualcuno ha parlato di un furto del futuro perpetrato nei loro confronti. In occasione della giornata mondiale della salute mentale, il dipartimento della ASL4 ha voluto affrontare il tema degli effetti della pandemia attraverso un video realizzato dagli stessi operatori sulla figura di Emily Dickinson. Prendendo spunto dalle similitudini tra la vita della poetessa, che scelse di vivere la sua vita chiusa in una stanza descrivendo il mondo a parole e quella dei giovani chiusi in casa forzatamente per il lockdown, gli operatori hanno voluto tracciare i percorsi di uscita dai problemi e indicare gli strumenti validi per farlo. Emily Dickinson in questo video esce un po' come il nostro faro, perché con le sue poesie, soprattutto con l'ultima, ci racconta che anche nella tenebra più scura, che è un paradosso, però i nostri occhi imparano a vedere e che la vita procede quasi dritta, quindi proprio per dire quello che è stato un po' il nostro cammino. Oltre al bello e all'arte, come cura c'è bisogno anche di relazioni, confermano gli esperti, nell'ottica di pensare una comunità che cura. Per questo partirà nell'Asle 4 un progetto che renderà più accessibili gli spazi e gli strumenti di aiuto messi a disposizione dai servizi sanitari. I problemi della salute mentale non possono essere delegati ai soli operatori, ai soli servizi. Richiedono proprio atti tecnici, quindi un accesso precoce, trattamenti congrui, adeguati, ma anche interventi nel sociale. Credo che questa sia la cosa su cui dobbiamo impegnarci. Una sguarda ai dati di oggi relativi alla pandemia, sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, 15 i casi in Asle 4. Torna a salire il numero degli ospedalizzati, oggi sono 56 le persone ricoverate, una in più rispetto a ieri, 6 i pazienti in terapia intensiva, sempre 2 le persone ricoverate a sestri levante. Oggi si registra il decesso di una donna di 90 anni a Genova. In Liguria sono state somministrate 4.356 dosi di vaccino, di cui 286 in Asle 4. E da lunedì non c'è più limite di capienza per teatri, cinema e musei. Lo ha deciso giovedì sera il Consiglio dei Ministri, approvando il nuovo decreto per i settori di sport e cultura. Facciamo il punto. Non sarà ancora un ritorno alla normalità, ma ci assomiglia molto. Da lunedì 11 ottobre non esiste più l'obbligo di distanziamento in cinema, teatri e musei, che possono quindi tornare al 100% delle loro capienze. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri giovedì sera, definendo nuovi limiti di capienza per il settore della cultura, dello sport e dell'intrattenimento, che superano le indicazioni che erano state date dal Comitato Tecnico Scientifico. In tutti i contesti vale sempre l'obbligo di esibire il Green Pass e usare la mascherina. Teatri, cinema e sale e concerto, dove si assiste da seduti, tornano al 100% anche al chiuso. Nei musei non c'è più l'obbligo della distanza personale di un metro. Per lo sport, i luoghi al chiuso avranno capienza al 65%, quelli all'aperto, come gli stadi, al 75%. Riaprono anche le discoteche, prevista capienza al 50% al chiuso e la possibilità di togliere la mascherina solamente quando si balla. Provvedimenti che danno molto attesi da chi lavora in questi settori. Siamo felici che venga confermata la sicurezza delle sale e il fatto che non sia mai successo nulla. Credo sia comunque opportuno, laddove non sono necessari più di tanto il 100% dei posti in sala, comunque mantenere una certa prudenza. I gestori delle sale cinematografiche sperano sia la ripartenza anche dal punto di vista degli introiti, in concomitanza con l'uscita di film di grande richiamo. Provvedimento positivo, commenta Massimo Colombi del Cinema Mignon di Chiavari, e aggiunge, speriamo che dia fiducia a molte persone ancora titubanti di venire nelle sale. Il decreto prevede anche un inaspiramento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati i registori nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. A partire dalla seconda violazione commessa, in giornata diversa, si applica la chiusura da 1 a 10 giorni. Mottiamo pagina. La Regione ha inviato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocata dall'ondata di maltempo che fra il 3 e il 5 ottobre scorsi ha investito il territorio, in particolare la provincia di Savona e l'area della città metropolitana di Genova. Ad oggi la computa dei danni si attesta intorno ai 10 milioni di euro. Il villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno si prepara alla grande festa per i 75 anni dalla fondazione. Domani ci sarà la messa preseduta dal vescovo alle 18. Abbiamo chiesto al presidente, prete Rinaldo Rocca, una riflessione su questo lungo cammino al fianco dei più bisognosi. Sentiamo. È una storia di bene quella che il villaggio ha costruito in 75 anni di vita fidandosi dell'intuizione di Don Nando Negri e questo bene cresce, sempre a disposizione delle necessità del territorio. Si è cominciato con i ragazzi dell'età scolastica, poi si è cominciato a pensare un po' oltre alla formazione professionale perché è il futuro di questi ragazzi. Passata l'emergenza del dopoguerra, la formazione professionale è sempre rimasta l'impegno grande di Don Nando perché era convinto che il lavoro fosse almeno il 70% delle necessità vitali di una persona. Ma i piccoli del Vangelo non sono solo i bambini, capì presto Don Nando, così nacquero altri servizi, soprattutto il socio sanitario. Anche dopo Don Nando abbiamo continuato in questo senso perché il dormitorio non c'era quando Don Nando è partito, ormai sono 15 anni. Adesso attualissima l'accoglienza dei migranti sia prima sia adesso dei profughi afghani. Il villaggio nacque il 10 ottobre 1946 con la firma del contratto di affitto di Villa Parma a Lavagna. C'è il documento che conserviamo gelosamente, ma a fine settembre aveva già individuato i primi collaboratori, innanzitutto la signorina Dina Mastini che è stata un po' la direttrice di Villa Parma. La preghiera, prosegue Prete Rinaldo, è essenziale per proseguire questo lungo, lunghissimo cammino. Queste ali di preghiera, di ascolto della parola di Dio hanno dato la possibilità al villaggio di camminare sui sentieri di Dio e tuttora dobbiamo fare così, dobbiamo farle con lo stesso spirito di Don Nando. E allora, per ringraziare, sabato 9 ottobre alle 18 al villaggio il Vescovo celebrerà la messa all'aperto o in palestra a seconda del meteo. Il Green Pass non serve. Infine, attenzione, le auto dovranno entrare da dietro, dal parcheggio della Basco. Il Vescovo ha incontrato la comunità ucraina di Chiavari, un'occasione di conoscenza reciproca culminata con la messa. I fedeli cattolici di rito bizantino hanno raccontato origini, storia e tradizioni del proprio paese. Non un maestro, piuttosto un allievo. È venuto ad ascoltare il Vescovo, cultura, tradizioni, volti della comunità ucraina che ha radici che affondano nel cuore della diocesi. Nella chiesa di Vientella a Chiavari, De Vasini dice di voler conoscere la teologia, i costumi e le abitudini orientali. È il cuore dell'accoglienza, come spiega poco dopo nell'Omelia della Messa. Servire l'altro è innanzitutto accogliere l'altro e accogliere l'altro è innanzitutto ascoltare l'altro. Gentile e accogliente come sempre, la comunità ucraina si presenta al Vescovo con racconti, testimonianze e canti. Sapere che il Vescovo di Chiavari è con noi, dicono, è motivo di speranza. Con chi possiamo affidare se succede qualcosa, nostre preoccupazioni, nostri pensieri, dividere con lui e sperare che lui capisce di che cosa parliamo, almeno aiutare con una parola, con un sostegno, anche con sua presenza soltanto. Monsignor De Vasini viene poi accompagnato nella visita di una mostra allestita ad hoc nei locali dietro la chiesa. Qui, tra le altre cose, si possono trovare i vestiti della tradizione, storici, tutti cuciti a mano. Che i nostri bambini approviamo a raccontare e approviamo a dare un pezzettino di questa storia che sappiamo ancora noi. E poi uno strumento che ha nelle sue corde la millenaria storia dell'Ucraina, la bandura, che può arrivare ad avere sino a 60 corde. Quelli che suonano questo strumento si chiamano i kobzari. Tra loro anche il nostro poeta, scrittore, un leader del popolo ucraino, un simbolo del popolo ucraino è Taras Shevchenko. Prosegue la preparazione alla solennità di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra di Sestri Levante. Questa sera alle 21 la veglia di preghiera con Don Luigi Verdi della comunità di Romena. Sabato alle 15 l'offerta di Fiori e Maria seguirà un momento di gioco nel campo parrocchiale. Alle 18 poi la messa e alle 21 la celebrazione dei primi vespri presieduta da Don Luciano Smirni. Domenica le messe saranno alle 7.30 e alle 9, alle 11 la celebrazione è presieduta dal vescovo Giampio De Basini. Alle 17 la liturgia solenne del Vespro con Don Marco Torre. Alle 18 sarà presentato il gruppo scultoreo della Dolorata, recentemente restaurato a cura del laboratorio di Elena Parenti, sotto la direzione dei lavori di Paola Traversone della Soprintendenza. Lunedì poi la messa di ringraziamento e riposizione dell'immagine di Nostra Signora del Soccorso. E 16 anni di vita per l'oratorio di Santa Maria del Campo a Rapallo. Domenica la festa inizierà con il pranzo, proseguirà poi con momenti di gioco. Alle 17 l'appuntamento centrale con la messa presieduta dal vescovo che conoscerà così le varie attività. E sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Teologia Mater Ecclesia di Chiavari, per il percorso dei studi, per motivare e approfondire diversi aspetti della vita di fede. Vediamo. Per chi iscriversi alla Scuola di Teologia? Ormai non abbiamo più la possibilità di rilasciare dei titoli, dei diplomi che servono per l'insegnamento della religione. Quindi iscriversi per motivare la propria fede, per spiegare magari anche qualche perplessità, per approfondire soprattutto il percorso di fede che stiamo facendo nelle nostre comunità. Quali sono i corsi di quest'anno? Quest'anno, come dire, i corsi saranno almeno nel primo quadrimestre istituzionali, quindi faremo per quanto riguarda la Sacra Scrittura tutto l'Antico Testamento. E poi faremo l'insegnamento sul credo, la cristologia, l'ecclesiologia, l'antropologia teologica, quindi un po' tutto il panorama, diciamo, teologico sul deposito della fede. Quando ci sono le lezioni e quanto dura questo percorso di studi? Le lezioni per il biennial sono lunedì, mercoledì e venerdì, sempre alla sera, dalle 18.45 alle 22. Invece per il primo anno, l'anno di propedeutica, saranno solo il mercoledì e il venerdì dalle 18.45 alle 22. Il percorso, per chi frequenta tutti i corsi, quindi in maniera, come studente ordinario, è di tre anni, quindi un primo anno di propedeutica e un biennio ciclico. Questo sarà il primo quadrimestre, nel secondo, generalmente, poi ci sono anche corsi opzionali, in questo senso si sta lavorando a qualcosa di particolare? Sì, nel secondo quadrimestre abbiamo qualche spazio da riempire, quindi pensiamo sicuramente di inserire qualche corso opzionale che sia rispondente anche alle attese, alle esigenze che vengono dalla nostra chiesa locale, con la scuola di teologia e a servizio della diocese, quindi è giusto che ascolti anche. Dal punto di vista pratico, come sono le lezioni? Sono in presenza? Ci sono delle disposizioni di sicurezza? Sì, faremo le lezioni in presenza e chiaramente chiederemo il Green Pass, quello sarà una condizione necessaria e poi tutte le altre attenzioni che chiediamo di avere, però contiamo, se la situazione rimane così, di poter continuare in presenza. Ricordiamo che per informazioni bisogna presentarsi alla segreteria del seminario Vescovile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, oppure telefonare al 370-3322517 o scrivere una mail all'indirizzo issr.ch-libero.it Lezioni al via da lunedì 18. Le superiore delle 22 comunità religiosi presenti sul territorio della diocesi di Chiavari appartenenti a 14 congregazioni religiose si incontreranno domani mattina alle 9.30 nella sala Ferrari in seminario Chiavari. In questa occasione sarà eletta la delegata diocesana dell'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia, USMI. Per questo sarà presente anche la Presidente regionale, Madre Rosangela Sala. Sarà presente anche il Vescovo diocesano. Per la politica amministrativa, approvato dalla Giunta del Comune di Chiavari, il progetto per il primo stralcio di lavori per la riqualificazione e difesa del litorale. Con una spesa di 14 milioni di euro di fondi di protezione civile, verranno costruiti 5 pennelli perpendicolari al posto delle attuali barriere parallele e nuove scogliere sommerse a protezione degli arenili che saranno oggetto di ripascimento. La prima fase riguarderà il tratto di costa, compreso tra la foce del Rupinaro e i bagni comunali, verrà suddivisa a sua volta in due lotti. Nel primo, relativo agli interventi nell'area tra la foce del Rupinaro e Piazza Gagliardo, verranno realizzati 3 pennelli perpendicolari, una scogliera sommersa e il ripascimento delle spiagge. Per il secondo è prevista la costruzione del quarto pennello. Stiamo lavorando per portare avanti gli adempimenti burocratici e partire con le operazioni per il primo lotto già entro la fine del 2022, spiega l'assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bisso. Nella programmazione delle opere si terrà conto delle legittime esigenze delle imprese stagionali, titolari delle varie concessioni, con una suddivisione del cronoprogramma dei lavori in più annualità. La Giunta ha recentemente approvato anche il progetto definitivo complessivo per un valore di circa 29 milioni di euro. E sempre a Chiavari sono terminati i lavori di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ampliamento dell'area giochi esterna all'istituto scolastico delle Mazzini Est. Con un impegno finanziario di 1,3 milioni di euro si è realizzato il cappotto termico per garantire un notevole efficientamento energetico e una minore dispersione del calore. Sono stati rinnovati gli infissi in alluminio e installati nuove rinforze in fibre di carbonio su ogni piano per una maggiore sicurezza strutturale. Oltre al nuovo impianto di riscaldamento, di smaltimento delle acque piovane, uno spazio all'aperto sistemato e riqualificato. Contemporaneamente sono state eliminate le barriere architettoniche presenti nel plesso delle Mazzini Ovest e si sta provvedendo all'installazione di un ascensore esterno. A Sestilevante invece sono quasi pronti i nuovi uffici comunali di via Salvi. L'amministrazione ha scelto di riportare gli articoli 2 e 3 della Costituzione sulla facciata del nuovo edificio per ricordare l'importanza e il valore dei principi della legge fondante dello Stato. Entro la fine novembre i nuovi interventi saranno terminati e collaudati e certificati in modo da permettere il trasloco degli uffici nel mese di dicembre. Il nuovo polo tecnico del Comune ospiterà i servizi di edilizia privata, ambiente, demagno, urbanistica, progettazione e manutenzione permettendo così di semplificarne la fruizione ai cittadini. Parliamo adesso di formazione. Progetto Matchpoint, l'Accademia del Turismo di Lavagna. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di formazione gratuiti finanziati da Regione Liguria per cuoco e addetto alle vendite del settore alimentare. Entrambi i corsi prevedono 600 ore di formazione, di cui la metà da svolgersi in aziende del settore di riferimento che accoglieranno gli allievi nelle proprie strutture per stage in vista di un'eventuale assunzione. Sentiamo. Noi siamo sempre attivi proprio per dare una risposta anche al territorio per ragazzi che si vogliono formare, quindi ragazzi in età di formazione, ma anche giovani adulti e adulti che vogliono introdursi nel mondo del lavoro. Nello specifico, in questo momento, sono aperte le iscrizioni per i progetti Matchpoint, che sono dei progetti di alternanza scuola-lavoro, quindi i ragazzi fino ai 29 anni, quindi un'ampia fascia di giovani disoccupati possono iscriversi e noi andiamo a formare Cuoco on the job e l'altra figura invece è addetto alle vendite dei prodotti alimentari. È un progetto con una grande collaborazione delle aziende che hanno dato una risposta importante comunque alla nostra richiesta di aiutarci a formare i ragazzi su quanto effettivamente c'è bisogno nel mondo del lavoro e di conseguenza le persone che parteciperanno a questi corsi avranno la possibilità di frequentare le ore a scuola e in laboratorio per due settimane e successivamente per altre due settimane in azienda, questo per un periodo continuato fino alla prossima primavera, con l'obiettivo comunque di trasformare queste collaborazioni in assunzioni. Le iscrizioni sono aperte. Ci sono ancora posti disponibili? Quanti sono? Dove poter affettuare le iscrizioni? Sì, certamente, i posti sono ancora disponibili, abbiamo ancora la possibilità di aggiungere nuovi iscritti. Il termine è metà mese per la figura di Cuoco on the Job, è la fine del mese per la figura di addetto alle vendite dei prodotti alimentari, siamo sempre disponibili in Accademia per dare tutte le informazioni del caso e per le iscrizioni. In tema di lavoro andiamo sul nostro sito, teleradiopace.com, perché anche nel Levante Poste Italiane cerca portalettere da inserire nel proprio organico con un contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente collegarsi alla sezione cardiere del sito istituzionale di poste www.posteitaliane.it e inserire il proprio curriculum vite. La selezione scade il 12 di ottobre, i candidati saranno assunti a decorrere dallo stesso mese di ottobre in relazione a specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale nell'area territoriale di propria competenza. Sarà l'avvocato mentore Campodonico, attuale presidente del Consiglio Comunale di Rapallo, il Rapallino d'Oro 2021. La sua designazione è stata deliberata all'unanimità dal Comitato Esecutivo, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione Liguri Antichi i Rapalli. Nella nostra agenda adesso gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 9 ottobre. Sulla spiaggia dei Balina, Sestri Levante, a partire dalle 9 iniziano le operazioni di alaggio dell'eudo nuovo aiuto di Dio, che termina così la sua stagione in mare. Alle 9.30 a Casa Caritas a Chiavari, convegno ecumenico, la transizione ecologica per la cura della vita con gli interventi di padre Traian Waldman della Chiesa Ortodossa Romena di Milano, Carlo Altomonte, docente di Economia dell'Integrazione Europea all'Università Bocconi, Patrizia Giangulano, esperta di sostenibilità, modera l'economista Patrizia Bussoli. Al via alle 9.30 a Piazzale Kennedy a Genova, l'Open Day Kart e Guida Sicura, organizzato in collaborazione con INAIL e FISAPS, Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali. Saranno presenti i tecnici e i piloti FISAPS che insegneranno ai partecipanti come condurre in sicurezza i veicoli e gestire le situazioni di pericolo con vetture e kart modificati per le persone con disabilità. Ultimo appuntamento con Rapallo del Gusto, alle 10.30 al mercato di Piazza Venezia sarà ospite la foodblogger Renata Briano, protagonisti il pesto e la focaccia genovese. Alle 15.30 l'hotel Excelsior Palace di Rapallo, cerimonia di consegna dei premi studio della fondazione Mario Elina Zavattaro e del Rotary Club Rapallo Tiguglio. Alle 17 nella sala Carlo Bò di Palazzo Fasce Rossi, a Seste Levante, presentazione del libro La Capitana, non c'è mai l'ultima onda di Mario Dentone. Introduce Tiziana Fabri, presidente dell'associazione ABC. Alle 17 nella sala Ghioschiffini della Società Economica a Chiavari partono gli incontri del Dida Festival, la sezione dedicata alle scuole nell'ambito del Festival della Parola. Il primo appuntamento è dedicato all'indimenticata poetessa e scrittrice Elena Bono, con la presentazione della raccolta antologica delle poesie Chiudere gli occhi e guardare 100 poesie per 100 anni. A presentarla saranno i curatori Stefania Segatori, Francesco Marchitti e Silvia Guidi. Dalle 17.30 nella sala polivalente di Recco, Alimberto Torri, scrittore e pilota e Marco De Montis, ingegnere aeronautico e giornalista, con l'introduzione di Andrea Lombardi, saggista, ricorderanno la storica impresa del primo volo Roma-Tokio che nel 1920 portarono a termine Arturo Ferrarin e Guido Masiero. E con l'agenda di Telepace si chiude questa edizione di Tigugli Oggi, l'informazione torna domani mattina con il nostro Tg Rassegna Stampa, l'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.